A causa di questo umiliante contrattempo, arrivarono al campeggio del lago che era già nottefondo. Ma ha visto che meraviglia? Eh, ma qui è proprio il paradiso terrestre. Piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti. Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Ti attento un attimo. Ecco. Basta, fedamno mal. Gli italiani sempre rumore, sempre cantare, chitarre e mandolino. Silenzio. Qui dormire, tedeschi noi. Se non farai speller a derkampi. Noi tedeschi, noi italiani e mandolino. Zitto. La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano. Prima cosa. Che? Prima cosa, piantare i picchetti. Ah, i picchetti. Sì, e li vada a prendere. Un momenti. Piano. Piano, piano. Mi appoggi piano. Sì, sì, piano, piano. Il martello. Mi passi il martello. Il martello io batto io. No, 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 batto io. Ah, batte, legge il picchetto. Va bene, legge il picchetto. Però mi raccomando, stai a te. Non si preoccupi. Oh Senta, abbia pazienza Stia attento per favore Maledizione ragioniere Filini Che male Mi ha quasi sfasciato una mano Guardi qui, guardi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti